Buon appetito, buon pomeriggio, buon ora di pranzo, buono studio, buon lavoro, buon tutto. Se avete seguito l'intervento in diretta di Giuseppe Conte, auguri. Abbiamo sentito delle cose lunari, al di là del disgusto, dell'imbarazzo, della vergogna per la caccia al senatore, per le offerte 3x2 alla Mastella che si stanno vedendo in queste ore. Però alcuni passaggi li ho riascoltati per capire se avevo sentito bene. I ristori, su questa pagina in tantissimi quotidianamente mi segnalano rimborsi che non arrivano, promesse mancate, le banche che non fanno quello che devono, problemi col conto corrente, problemi con l'affitto, problemi ad andare avanti con il lavoro. Il Presidente del Consiglio, cosa ha detto poco fa? Ma di cosa si lamentano gli italiani? I ristori, i rimborsi sono stati proporzionati alle perdite subite. Hai finito di prendere in giro gli italiani? Hai finito di prendere in giro gli italiani? Gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, le partite IVA, i liberi professionisti, secondo Conte, hanno ottenuto i rimborsi adeguati e proporzionati alle perdite economiche che hanno subito. Ma esprimi la tua idea, esprimi la tua visione d'Italia, non prendere in giro la gente. Prima Conte va a casa, meglio è, non per me, ma per tutti, per l'Italia, per gli italiani. Riassumendo, l'Italia è il primo grande paese al mondo per numero di morti in proporzione al numero di abitanti. Davanti al mondo, in questa triste, ahimè, graduatoria, ci sono San Marino, Belgio e Slovenia. Capite le dimensioni, ovviamente, San Marino, Belgio e Slovenia. L'Italia è il primo dei grandi paesi al mondo per numero di morti in base alla popolazione. Grande successo. E qual è il rischio per l'Italia, stando alle parole di Conte di oggi, i sovranisti? Le destre? La Lega? Salvini? I fascisti? I marziani? Ma dove vivi? Dove vivi? Ora, nella prima fase della pandemia, inutile dar lezioni, si capiva poco e nulla, si navigava a vista e si cercava di salvare il salvabile. La seconda ondata l'avevano prevista anche i tombini. La terza ondata, ahimè, è alle porte e il governo per cosa si batte, col suo prode ministro Azzolina difeso a spadatratta da Conte, sulla riapertura delle scuole, anche se non ci sono le condizioni di sicurezza, oggi in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise ci sono centinaia di migliaia di ragazzi a scuola, senza che il governo nel frattempo abbia fatto nulla per potenziare i mezzi pubblici, per mettere i condizionatori d'aria e il ricambio dell'aria nelle classi, nella stabilizzazione degli insegnanti. No, a scuola, a scuola come carne da macello perché così vuole la Azzolina. Quindi, riassumendo Conte, i rimborsi ai commercianti e agli imprenditori li abbiamo dati di che cosa si lamentano? Studenti e insegnanti non rompessero le scatole a scuola perché la Azzolina ha deciso che bisogna fare così. Primi fra i grandi paesi al mondo per numero di morti, primi fra i grandi paesi al mondo per crisi economica, meno 10% del PIL, mentre la Cina, amica di Conte, quest'anno è cresciuta del 2%, quindi il paese che ha contagiato il resto del mondo cresce, tutto il resto del mondo contagiato dalla Cina cala e peraltro la Cina vaccina e vende vaccini al continente africano, al Sud America, ai paesi arabi, quindi c'è qualcosa che non torna sulla politica estera, però sui rapporti con la Cina, con gli Stati Uniti, zero. E io sono preoccupato da qualcuno che strizza l'occhio ai regimi, alle dittature, altro che sovranisti. Un'altra priorità assurdo, assurdo, poi mi becco gli occhiali e magari rispondo a qualcuno dei vostri commenti, Conte ha detto io devo rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli italiani, fra queste la legge elettorale. L'ha detta veramente la legge elettorale proporzionale, ma per voi in questo lunedì ora di pranzo il problema nella vostra azienda, nella vostra famiglia, nella vostra casa, nel vostro ufficio e avere una legge elettorale proporzionale. Prima va a casa, meglio è, la via maestra è quella del voto, è caduto sabato il governo olandese, hanno già fissato la data delle elezioni per il 17 marzo, come accade in democrazia. In Portogallo, che ha gli stessi problemi italiani, eleggono il nuovo presidente della Repubblica domenica prossima, quindi o elezioni oppure se il presidente della Repubblica volesse il centrodestra ha donne, uomini, idee, progetti, energia, entusiasmo, entusiasmo non raccattato nei corridoi grazie a tabacci, mastella e a quelli che i grillini sono nati per combattere e adesso pur di mantenere la poltrona stanno pietendo il loro aiuto. Aprire tutti i cantieri fermi in Italia, pensate che ci sono 700 cantieri fermi in Italia, sono decine e decine di migliaia di posti di lavoro per italiani e italiane che altrimenti rischiano la fame, il licenziamento, la disoccupazione, poi è sviluppo, la gronda di Genova, il ponte sullo stretto di Messina, la dorsale adriatica, la pedemontana lombarda, l'alta velocità, le autostrade in Sicilia, i porti, il porto di Gioia Tauro, completamente dimenticate le infrastrutture nell'intervento di Conte nel programma di uso dei fondi europei del governo, quindi rimettere al centro lo sviluppo, il lavoro, la crescita, le infrastrutture, il viaggiare veloce che significa anche tutelare l'ambiente. La gronda di Genova significa togliere tir e tir e tir dal centro di una città, la TAV significa togliere tir e tir e tir dalle nostre autostrade, l'alta velocità significa viaggiare più veloce e inquinare di meno, i termovalorizzatori che per Conte e il ministro Costa sono assolutamente inimmaginabili, significa un'aria più pulita, basta con le terre dei fuochi, basta con i roghi tossici e i rifiuti diventano energia, si può fare? Sì, si può fare, senza DPCM, senza decreti, in fretta, prima Conte va a casa, meglio è, che cosa può succedere? Molti di voi stanno scrivendo ma cosa fa? Rimane attaccato alla poltrona? Vediamo, i deputati votano stasera, i senatori votano domani, vediamo se riusciranno a convincere, per ideale, perché ovviamente stanno ragionando di ideali, non di stipendi, non di mutui, non di compensi, vediamo, prima erano i traditori, gli scilipoti, adesso siccome ci sono di mezzo il PD e Conte sono i responsabili, i costruttori, com'è che li ha chiamati oggi Conte in aula? Non responsabili, costruttori, ha usato un altro oggettivo sostanzialmente tradotto poltronari, possiamo tradurre in poltronari quelli che fanno di tutto pur di non tornare a casa a fare il loro lavoro, ammesso che ce l'abbiano il loro lavoro, quindi via alle infrastrutture difesa dell'identità italiana, della cultura, della tradizione, della famiglia, qua c'è qualcuno che straparla di droghe, di gender, via la mamma, via il papà, genitore 1, genitore 2, genitore 32, non una parola dal signor Conte sul tema sicurezza, immigrazione clandestina e il contrasto all'immigrazione clandestina significa anche lotta alla droga, al traffico di armi, apro la parentesi, ci sono zone rosse in Italia, zone arancioni, da oggi anche a Roma, quindi bar chiusi, ristoranti chiusi, negozi chiusi, palestre chiuse, quasi tutto chiuso, ma qualche tribunale continua a correre, ho vinto un altro processo, ho vinto un altro processo, questa volta non a Palermo, non a Catania, non a Genova, non a Torino, ma a Milano, pare che il tribunale di Milano mi abbia rinviato a giudizio, il che significa processo, perché avrei diffamato caro la racchette, avrei diffamato caro la racchette, ora abbiamo un governo che è stato inventato da Renzi, che viene messo in discussione da Renzi, e prima Conte e Renzi andavano a braccetto e adesso si tirano schiaffoni, c'è una crisi economica, c'è una crisi sanitaria, non arrivano i vaccini, riaprono le scuole senza le condizioni necessarie di sicurezza, però l'unica certezza è che Salvini ha vinto un altro processo. Caro la racchette, se qualcuno non si ricorda, è quella signorina tedesca che guidava una nave, che è entrata in un porto italiano senza autorizzazione e ha speronato, speronato, una moto vedetta della Guardia di Finanza italiana con dei militari italiani a bordo che hanno rischiato la vita. Se non ricordate quelle immagini andate su Google, digitate Carola Speronamento e vedete una nave straniera tedesca che illegalmente entra in un porto italiano e altrettanto illegalmente schiaccia contro la banchina del porto una piccola moto vedetta della Finanza con cinque militari a bordo che sono saltati di giù al volo perché hanno rischiato di morire in questo impatto. Chi va a processo? Colei che sperona la moto vedetta militare italiana o il ministro che le aveva impedito di farlo? Il ministro. Ma provate a pensare il contrario. Una nave italiana che entra abusivamente in un porto tedesco che va addosso, e le immagini sono incredibili, andatela a cercare, che va addosso, rischiando di spiaccicarla contro il cemento della banchina del porto, a una nave militare tedesca? E secondo voi in Germania chi avrebbero mandato a processo? Il comandante della nave italiana che ha rischiato di uccidere dei militari tedeschi? O il ministro tedesco che avesse provato a evitare tutto questo? Però andiamo in quel tribunale, tanto fra Palermo, Torino, Bologna, Catania, Genova, Roma, Milano. Conosco infrastrutture, avvocati, giudici. Vado sereno, a testa alta, però mi domando se non siano soldi, tempo e denari degli italiani persi. Comunque questo è. Noi da stamattina stiamo lavorando in contatto con sindaci e governatori per i problemi dei rimborsi alle attività economiche che che ne dica Conte non hanno ancora visto quanto promesso. Sulla scuola, perché andare a scuola in presenza, in classe è fondamentale, è decisivo, non si può rubare il futuro ai ragazzi, ma sono necessarie condizioni di sicurezza. È necessario aumentare il trasporto pubblico perché non puoi chiudere i bar e chiudere le palestre e ammassare centinaia di ragazzi sui treni, sugli autobus o in metropolitana. Non ha senso tutelare la salute, la vita e l'integrità di studenti e insegnanti perché la scuola è il cuore del nostro paese e lasciarlo in mano all'Azzolina. Ecco, io spero che Conte vada a casa già domani perché con Conte fa le valigie alla signora Azzolina e un gruppo di ministri al cui solo pensiero si rabbrividisce. C'è una crisi sanitaria da risolvere puntando su medici e infermieri, assumendone di nuovi e aumentando gli stipendi come promesso a medici e infermieri, cosa che ancora non è stata fatta. Quindi sconfiggere il virus, riaprire le scuole solo in sicurezza e ripartire col lavoro. Mi spiegate, ecco, ma io questo non l'ho capito, il divieto di asporto dai bar dalle 18. Domani ci sarà qua a Roma un'iniziativa organizzata dal senatore Siri sulla riapertura delle attività economiche, commerciali, imprenditoriali in sicurezza, con le distanze dovute, col numero di presenze ridotto, con la mascherina, con tutte le precauzioni, con tutto quello che è pulizia, igiene, ordine e regole, ma lavorare, lavorare, uscire, respirare, altrimenti il paese muore. Chi non muore di Covid muore di fame, muore di sofferenza, muore di depressione, muove di lontananza, muore di tutto quello che stiamo vivendo insieme in questi giorni. Vado perché vanno avanti le riunioni. L'impegno mio, a nome vostro, è di provare a far di tutto per mandarli a casa, perché l'Italia merita di più, l'Italia merita di meglio, l'Italia siete voi, l'Italia siamo noi, l'Italia non sono tre senatori che si fanno comprare dalla sera alla mattina per garantire la poltrona al signor Conte e ai suoi lacchè. Quindi mai perdere la speranza, mai perdere la fiducia. Molti di voi, come me, sono incazzati, sono arrabbiati, sono disgustati. Avanti, avanti. Il nostro è un grande paese che è sopravvissuto a tragedie di ogni tipo e ci sarà un futuro migliore al di là dei Conte, delle Azzolina, dei Buonafede. Vi aggiorno in tempo reale e che il buon Dio ce la mandi buona.